Musica Partato l'entra Geroniasi, Ammengoni, Aurora di nuovo a Colombi, Giada per ultima Partato Lorenzo viene da Serravale di Carda, giovanissimo il suo cavallo solo sette anni e i dollaro, alle prime e alla seconda gara in assoluto Comunque lui tanta esperienza, bravo Lorenzo al figura del calicello Viene alla sagge passi Bene, è arrivato al pool Lorenzo, pazzaglia più di Daniele, grande domatore di cavalli di Serravale di Carda Viene a scendere anche la Corea, ottimo finora il suo percorso E' buono anche il tempo Ultimo stacco del cancello a mano sinistra E' da chiudere grande la gara di Lorenzo Pazzaglia, applausi 85-75 Per consumetto per il cavallo che è la seconda gara, ottimo il tempo Un doppio applauso perché ha montato un gol per la seconda volta Monta Serravale di Carda lui Lorenzo Pazzaglia su dollaro, quinto e posto Grande il suo percorso, mette davvero 85-75, grande Grande Lorenzo, bravo Si avvicina davvero, seconda gara per lui Bravo Lorenzo Grazie a tutti